A sconvolgere l'esistenza di Lehmann Kaufmann arriva una lettera nel dicembre 1933. Kurt, il suo miglior amico, gli chiede di prendersi cura della figlia Irene e di aiutarla a stabilirsi a Norimberga. Kaufmann ha 60 anni, è ricco, vedovo, ebreo. Irene ha 20 anni, è bella, determinata, ariana. In questo libro ci sono sicuramente due livelli. Il livello storico perché il romanzo è tratto liberamente da una storia vera. Quindi la parte che riguarda il processo e i due protagonisti è sicuramente presa dai documenti reali. Tutto quello che intercorre tra i personaggi e i protagonisti è tutto di fantasia e quindi opera narrativa. Nella città delle leggi razziali è una combinazione esplosiva, specialmente quando anche la giustizia si trasforma in un mostro nazista. È un romanzo, è una storia di amicizia, di sentimento tra un anziano ebreo e una giovanissima ragazza tedesca, ariana, secondo le regole del tempo. È una storia proibita quindi dalle leggi di Norimberga. E ovviamente attraverso gli occhi di questi due protagonisti, di questo micromondo che gira attorno a loro, di quartiere, e cerco, tento di raccontare la storia delle persecuzioni naziste in Germania in quel periodo. Il caso Kaufman, edito da Rizzoli, ci riporta i tempi oscuri della Germania nazista e delle leggi razziali di Norimberga che impusero ai cittadini tedeschi di religione ebraica, prima pesantissime discriminazioni e umiliazioni, poi la morte. Io credo che la Shoah, lo sterminio degli ebrei d'Europa, sia un buco nero nella storia del cammino dell'uomo e anche se tanti sociologi, psicologi, scrittori, storici hanno cercato di dare delle interpretazioni, rimanga ancora fondamentalmente un mistero, un mistero che forse non sarà mai risolto. Non capisci il Novecento e la storia successiva se non parti da Auschwitz, tutto quello che Auschwitz comprende.